Venderò le mie scarpe nuove ad un vecchio manichino per vedere se si muove, se sta fermo o se mi segue nel cammino venderò il mio diploma ai maestri del progresso per costruire un nuovo automa che dia all'oro più ricchezza e a me il successo ai signori mercanti d'arte venderò la mia pazzia mi terranno un po' indisparte chi è normale non ha molta fantasia Raffaele è contento non ha affatto il soldato ma ha girato e conosce la gente e mi dice stai attento che resti fuori dal gioco se non hai niente da offrire al mercato Venderò la mia sconfitta a chi ha bisogno di sentirsi forte e come un quadro che sta in soffitta gli parlerò della mia cattiva sorte Raffaele è contento non si è mai laureato ma ha studiato e guarisce la gente e mi dice stai attento ti fanno fuori dal gioco se non hai niente da offrire al mercato Venderò la mia rabbia a tutta quella brava gente che vorrebbe vedermi in gabbia e forse allora mi troverebbe divertente la 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 ogni cosa ha il suo prezzo ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà Radio 2